Salve a tutti, mi chiamo Pasquale Vettere, ho 30 anni e vivo a Novara. Sono laureato in scienze dell'educazione all'Università del Salento, ma il mio percorso formativo è stato caratterizzato dalla filosofia così tanto da condurmi alla produzione di una tesi di laurea sul ruolo dell'esistenzialismo nei nostri giorni, visto dalla prospettiva della teoretica. Tutt'oggi mi dedico con passione alla materia, mi informo, continuo a leggere e studiare da autodidatta, tentando, quando possibile, di assistere a conferenze nei pressi del mio territorio. Il presente intervento concernerà il tema multiculturalismo, interculturalismo e globalizzazione per il blog di Filosofia Criticamente e nello specifico per il progetto Cool4Video Workshop. Di primo acchito, analizzare questo tema esprime già un arduo compito, soprattutto se si tiene conto della difficoltà di sintetizzare un argomento importante come questo, la cui implicazione può spaziare dagli orizzonti dell'antropologia culturale, all'economia ed anche alla filosofia morale. Innanzitutto, mi piacerebbe far presente che alla luce della storia dall'antica Roma ad oggi, l'Europa è sempre stata caratterizzata da un atteggiamento, ovvero da una tendenza globalizzante. Con questo non si vuole affermare che la globalizzazione viene prima o si pone ad origine di fenomeni quali multiculturalismo, interculturalismo o viceversa. Questi tre aspetti, direi oggi fondamentali per l'analisi di una fenomenologia sociale, sono interdipendenti tra loro ed è impossibile pensare ad essi come realmente separati o separabili, poiché si potrebbe quasi con certezza affermare che i processi culturali di una società tendono ad estendersi oltre i propri confini, sia essendo permeabili ad una diversità culturale all'interno di uno stesso territorio, sia connettendosi e rimestandosi con nuove culture, con le quali si viene naturalmente in contatto per via degli scambi commerciali, ma non solo. Partendo dalla storia e facendo un brevissimo e veloce excursus, si potrebbe dire che una delle caratteristiche fondamentali della Roma antica è stata il principio di cittadinanza, che ha costituito la società romana fin dalle sue origini, dimostrandosi un processo assolutamente efficace, il quale ha consentito i primi romani di espandersi fino a diventare in pelo. Questo principio non era presente in nessuna altra popolazione antica dell'epoca. Esso consisteva nell'accogliere in uno stesso territorio persone provenienti da altre regioni, che chiedevano osilo politico poiché scacciati o condannati dalle loro comunità d'origine. Questo atteggiamento, con l'andare del tempo, ha creato una società non più basata sul concetto di consanguinità, ma su quello del dominio politico attraverso la res pubblica, concetto del tutto nuovo per gli arcaici. Inoltre ciò ha consentito che i rapporti in politica estera dei romani fossero basati sul valore della fides, anziché sul predominio attraverso l'imposizione della sola forza dei costumi e della religione. Così si può tranquillamente capire come le prime vere integrazioni culturali, come il multiculturalismo e l'interculturalismo, siano stati una prerogativa romana in Occidente. Ora facciamo un salto di circa 2300 anni ed approviamo all'illuminismo, periodo nel quale l'interculturalismo si anima a mezzo di una motivazione storica. L'esplorazione geografica era finalizzata da crescere la conoscenza degli altri popoli. Niente di simile era capitato prima di questo secolo. Le circunnavigazioni del globo prima di questo momento erano avvenute per motivi bellici, commerciali oppuramente per interessi di dominio o scoperta geografica. Questa nuova finalità portava già con sé i semi di implicazioni morali ed esistenziali molto forti, soprattutto se si considera che la rivoluzione portata dall'illuminismo è stata di fatto la prima rivoluzione globale in Europa che ha determinato un cambiamento di coscienza forte per tutti gli individui che ne sono stati toccati, sia direttamente che indirettamente. E infatti in questo periodo che a livello filosofico succede qualcosa di assolutamente interessante. Mentre si sviluppava un pensiero che concepiva già nel 600 la mente umana come luce del mondo, costituendosi da prima materia pensante in un successivo momento, ragione pura, in mezzo a queste filosofie si posizionava il pensiero di Pascal, che affermava che il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce, ponendo così il dubbio sul primato della ragione e facendo sorgere una prospettiva esistenzialista della realtà. I concetti qui rammendati hanno consentito all'uomo europeo di avere la possibilità di esistere in una società potenzialmente interculturale. In questo senso ci si potrebbe ricollegare anche ad Emmanuel Evidence che nell'opera Dall'altro all'io affermava che l'attività del pensiero ha ragione di ogni alterità, in quanto a mio avviso la struttura intenzionale della coscienza, essendo caratterizzata dalla rappresentazione al di fuori di sé, ha la possibilità di integrare l'altro senza destrutturare il proprio principio di identità. Con quanto affermato vorrei sottolineare l'importanza di non dimenticare quanto la filosofia abbia a che fare con la globalizzazione come fenomeno culturale. Oggi continuamente siamo portati a credere che la globalizzazione sia un processo causato quasi esclusivamente dal passaggio del commercio attraverso lo scambio di materiali preziosi alla nascita della Borsa e della Banca Mondiale, grazie alle quali gli scambi commerciali iniziarono a basarsi sul contraccambio del dollaro con le altre valute, dopo il secondo dopoguerra. E' pur certo che questi fatti abbiano influenzato enormemente la cultura mondiale, diffondendosi ancora più velocemente attraverso la nascita dei sistemi informatici automatizzati e della comunicazione commerciale intercontinentale. Però è da considerare che la sostituzione del valore come orientamento morale di una società con la virtualità di un valore generalizzato ed aleatorio della moneta come simbolo è un sistema che ha già mostrato tutta la sua fallibilità e la sua insufficienza a costituire e reggere una struttura globale ed interculturale, poiché le fondamenta di una società così impostata non sono solide, già che mancano di coscienza, per dirla in maniera filosofica, ma possiedono esclusivamente finalità che mirano ad espansioni capitalistiche, troppo prive di contenuti per preservare la libertà di diversità culturale e di coscienza dell'essere e dell'essere diverso, poiché è questo che consentirebbe una globalizzazione realmente democratica, multiculturale ed interculturale. Se tutto continuerà ad essere dedotto alla luce del commercio e del sistema produttivo, la crisi non avrà mai fine, come già giustamente Husserl presentì in qualche maniera. Con questo intervento terminato, spero di aver chiarito il mio asse di pensiero che voleva riassumere, sintetizzare la globalizzazione alla luce di una rivoluzione culturale non economica come potenzialmente culturale rispetto a quello che magari succede oggi e rispetto a quello che la vede oggi protagonista esclusivamente in tal senso, come anche in Europa sta accadendo. Con questo ho terminato, do i miei saluti a tutti gli ascoltatori. Grazie per l'attenzione.